Sarà nei cuori dei cittadini ma anche nelle vie laterali del centro storico dove è già stato allestito il tappeto rosso il Natale 2020 a Pesaro che quest'anno cambia dimensione, si arricchisce di idee e si ridistribuisce nello spazio. Per via del Covid cambierà la forma ma non la sostanza quindi il Natale splenderà non solo in centro ma anche nei 12 quartieri del comune nel municipio di Monte Ciccardo dove splenderanno lanterne luminose e ancora nel trenino turistico che passerà per le vie del centro attivo dal 28 novembre fino al 6 gennaio 2021 nelle luci che illumineranno l'albero da record in piazza del popolo dove a creare un'atmosfera suggestiva ci sarà anche il presepe di ghiaccio e poi nelle vetrine dei negozi che saranno addobbate a tema. È un trenino molto simpatico interessante soprattutto per i più piccoli e un trenino che toccherà tutte le vie principali del centro storico con diverse fermate con un biglietto a presto diciamo abbastanza basso e un'altra cosa che abbiamo cercato comunque sia di salvaguardare di riuscire a realizzare è il presepe di ghiaccio una bellissima installazione la natività e quindi una figura diciamo storica e religiosa della nostra cultura e assieme a questa natività vicino ci sarà una sorpresa perché verranno scolpiti sempre sul ghiaccio dei personaggi in più un'altra cosa che stiamo portando avanti e quella della filodiffusione musicale incrementeremo ancora di più la filodiffusione nel centro storico con tante canzoni e tante nenie che rispecchiano il Natale. Un Natale solidale pensato anche per sostenere le realtà locali. In particolar modo però per i quartieri abbiamo deciso anche oltre all'attività che ha assessorato ai quartieri come la della Dora aveva già programmato per il Natale di dare anche un bonus ulteriore anche come ringraziamento ai volontari dei quartieri ai consigli di quartiere per l'attività che stanno svolgendo e che svolgeranno in queste settimane per la consiglia dei buoni per quelle che sono tutte le attività sul territorio ogni quartiere potrà presentare un progetto per mille euro e quindi sarà un'attività in più per rivolte alle famiglie, rivolte ai bambini, rivolte a quello che ogni quartiere in base alla propria progettualità vorrà fare per dare un senso del Natale ulteriore. Infine un bando rivolto alle attività di vicinato, bar, negozi, ristoranti, gastronomie, pizzerie e piccoli artigiani pensato dal comune per premiare le migliori idee degli esercizi commerciali dell'intero territorio comunale di Pesaro. Ci saranno questi 20.000 euro dove verranno premiati 10 progetti dove le attività dovranno fare aggregazione, sinergia di impresa e presentare dei progetti che siano collegati alla comunicazione di impresa, innovazione, tecnologia oppure anche collegati al decoro natalizio. La domanda dovrà essere fatta entro il 5 di dicembre presentando poi le spese che le attività avranno dovuto sostenere automaticamente verranno versati 2.000 euro dei progetti che di più alla commissione perché verrà fatta una commissione che valuterà i progetti con un punteggio e nell'arco di pochi giorni verranno erogati i soldi.